l'impasto pronto è perfettamente lievitato adesso però c'è la fase più delicata quella della cottura dove si rischia di rovinare tutto quindi attenzione al giusto livello di cottura e di vapore provate con Vaporex basta impostare la funzione cottura del pane aggiungiamo dell'acqua e cociamo a vapore per un pane croccante, flagrante e super profumato profumo fantastico e cottura ultimata il segreto del mio pane è questo, più facile di così cucinare è un piacere ma lo è ancora di più se lo faccio in una cucina bella ben accessoriata e comoda dove tutto è portato di mano e soprattutto facile da pulire